Ehi, cosa sono quei musi? Non sapete che avremo nuovi direttori per i musei dell'Italia Quelli più importanti dovranno diventare macchine da contanti Rappo per raccontarti come una videoguida di questo cambio di guida Dei musei ai piani alti fatto per rilanciarli, modernizzarli, allinearli Agli altri grandi, fra i più visitati al mondo non lo sai Che nei primi cento noi ne abbiamo solo sei Il nostro number one è il numero 26 Mentre il vero number one fa le mostre su Pompei, dai Abbiamo l'arte dalla nostra parte ma se credi che sia sufficiente vivi su Marte Qui, ciò che serve veramente sono esperti nell'arte del marketing Compiti dei direttori a tirare, sempre più visitatori a tirare Anche investimenti da fuori, profittare al massimo di quei capolavori Cerchiamo professionisti, i migliori uomini Abbiamo messo anche un annuncio sull'Economist Il concorso scade il 15 febbraio, stipendi a 5 e 0 Se ci credi muoviti Ma c'è chi dice Attenzione figliolo, non si tratta mica l'arte in questo modo I musei sono il luogo dove risiede la memoria collettiva dell'uomo Attenzione perché questo è il primo passo La voglia di sapere ora rischia il sorbasto da parte dello spasso Nei musei va tenuto il silenzio, non facciamo chiasso Ehi, cosa sono quei musi? Non sapete che avremo nuovi direttori per i musei dell'Italia Quelli più importanti dovranno diventare macchine da contanti Voglio più ristoranti, ha detto il ministro Librerie, negozi, servizi e guadagni I detrattori ora si dovranno arrendere Valore inestimabile, devi saperlo vendere Reporti